E allora che gran serata è un programma evento di musica e intrattenimento qui su RF101 che tutti i mercoledì promuove tutto ciò che è arte, creatività in ambito musicale, artistico, quindi anche cinema, cultura, spettacolo e così via. Insomma sono tanti i personaggi che nella nostra zona, parlo di Agrigento e provincia, hanno talento, hanno voglia di fare, lo fanno in ogni settore, dalla musica al cinema e così via. E questo programma, questo salotto radiofonico, voglio precisare, che non è solo musica quindi è anche arte e creatività, ha proprio la caratteristica e l'impegno di promuovere tutto ciò che questi talenti, questa gente riesce a realizzare. Questa sera abbiamo vissuto per esempio un bellissimo evento con tanti protagonisti studio, tra cui i ragazzi della zona di Agrigento e provincia, quindi anche di Favare e di altre zone, che hanno partecipato ad Aria Sanremo, quindi hanno fatto questa bella esperienza. Ma non solo loro, ci sono stati anche personaggi dell'ambito della cultura, abbiamo avuto un'artista che ha parlato di poesia. E poi una caratteristica fondamentale del programma è il fatto di avere degli eventi live, settimanalmente viene un gruppo, una band che si fa conoscere, perché in effetti poi c'è anche questo, c'è tanto, per cui io vi invito a seguire, che gran serata, tutti i mercoledì su RF101, dalle 19 alle 21. Buona serata.